e sono tanto preoccupato per suor flora è uscita stamattina e ancora non è tornata a casa pregherò per lei pregherò per lei eccola suor flora che c'è una disgrazia una disgrazia hanno fatto lo no 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 penso 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 è caduta no tre brutti tre brutti mi hanno afferrata uno per un braccio uno per un altro braccio mi hanno violentata mi hanno violentata per tre giorni e tre notti flor flora ma che sta dicendo lei è uscita solo stamattina ma già è pure rimaneto prima vero